Presidente che tu qui devi tenere a bada tutti gli sport della provincia di Varese, affrontiamo un piccolo argomento che è stato pubblicato, purtroppo ti devo chiedere una cosa, c'è ancora troppo degli stadi, troppa gente che accende i bambini, questa furia di giocare e di far male e i genitori sono lì che li aizzano, cosa si può fare? Ben poco, è un problema, il puntino ritorno è superato, il problema è che le società devono fare muro non di gomma, devono essere dure, cattive, disciplinare questi comportamenti perché purtroppo è inutile nasconsi dietro un dito, non spariranno mai, però se i genitori che si comportano così trovano una società che non li sostiene e per tenerseli è anche disposta ad accettare determinati comportamenti, da questa situazione non se ne esce più, le società devono essere le prime a intervenire in maniera pesante nel momento in cui nella propria società ci siano atteggiamenti, comportamenti che sono contrari alla lealtà e all'etica sportiva. Istituire un premio o fare una festa proprio sulla lealtà sportiva è un sogno utopico? No, diciamo che la Federazione Italiana Gioco e Calcio già istituisce il premio fair play, però vedi il problema, siamo sempre lì, è chi va sul giornale, chi comunque ottiene le luci della ribalta è sempre e comunque colui che alla fine vince. Un premio come dici tu sarebbe da riservare e da focalizzare rispetto a chi invece costruisce il futuro sportivo, però questo non fa audience, non fa prima pagina, non fa mercato da questo punto di vista. Un bambino per esempio che fa fatica a muoversi, che ha difficoltà, che anche caratterialmente è un pochettino imbarazzato e comunque svolge la propria attività sportiva nel corso della stagione diventa più forte, accresce la propria autostima, comincia a stare nel gruppo e a fine stagione riesce a esprimersi per quel minimo che può fare, è una vittoria anche quella, ma non è una vittoria che finisce sui giornali perché comunque sia non ha un richiamo di un certo tipo. Ci sarebbe invece da focalizzare questo tipo di vittorie che sono diverse da quelle... Ultima cosa, se non resista mi taglia, allora ci vediamo a Varese allenare il Varese. I piccolini, ciao!